Nuova avventura, come si vede alla mia macchina carica, è a viverone, come al solito, viverone fa rima con gran nebbione. Le funzioni quest'anno non sono granché, il lago è abbastanza inchiodatello, come al solito la postazione farà tutto, vediamo di riuscire a cavare fuori qualcosa, come sempre l'entusiasma è tanto e vedremo come andrà. L'importante, come dico sempre, essere a pescare. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.